La notazione è racchiusa tra due frasi che si riferiscono alla Madonna. La prima dice così, senza una mamma la vita non ha senso. E l'altra dice così, non sono forse qui io che sono la tua mamma. A tutti voi, a tutti noi, a tutti i ragazzi del mondo vorrei dire oggi, nonostante la depressione, la tristezza, la crisi, il male del vivere, come dicono oggi gli psicologi, le tentazioni del suicidio giovanile. Nonostante tutto vorrei dire a loro, con Don Bosco ce la possiamo fare, con Don Bosco ce la dobbiamo fare. Buon bicentenario a tutti. Grazie a tutti.